I sindacati, anche se negano, confermano di aver proposto il licenziamento dei sei precari in servizio tra i Sernia, Venafro e Termoli nel nome del rispetto della legalità. In sostanza i sindacati dicono che non si può abdicare rispetto alla difesa della legalità e della regolarità procedurale perché questo porterebbe inevitabilmente ad avallare abusi e a scivolare nella tutela di posizioni individuali, reiterando discriminazioni e disparità tra i lavoratori. Per questo è strumentale, secondo i sindacati, parlare di licenziamenti senza avere contezza delle censure mosse, censure non certo proposte che, anziché scaricare responsabilità sui sindacati, avrebbero dovuto portare tutti ad una più obiettiva riflessione sull'abuso della contrattazione a termine. I sindacati hanno richiesto con decisione il rispetto della legalità. Tante, troppe volte, le organizzazioni sindacali hanno denunciato non condivisibili atti aziendali della stessa ASREM senza mai sortire alcun effetto, neppure in termini di formale riscondro da parte dell'azienda. Ciò porta a ritenere che nel caso specifico degli autisti di ambulanza mandati a casa, l'abuso forse era platealmente evidente. Questo perché, come denunciato nella nota incriminata, le organizzazioni sindacali avevano semplicemente contestato dei punti. Il primo, le motivazioni di urgenza poste a fondamento del provvedimento risalivano almeno al 30 aprile 2013. Secondo posto, le tanto comprensibili quanto obiettive esigenze dei presidi ospedalieri di Iserni e Termoli non potevano però portare a tacere l'illogicità del provvedimento di proroga, laddove l'ASREM aveva lutato, con motivazioni assolutamente opposte, di non poter prorogare altri contratti, circa 40, in scadenza del personale ausiliare afferente allo stesso ruolo tecnico. In sintesi, pur rispettando la posizione dei lavoratori interessati dal provvedimento e comprendendone le preoccupazioni, i sindacati, anche a beneficio di questi, ribadiscono senza tema di smentita di aver uniformato il proprio agire alla più stretta doverosità della critica e alla denuncia degli abusi. In conclusione, sì ai licenziamenti, ma solo perché erano giusti, almeno così concludono CGL e Cislewil. Insomma, c'era da aspettarselo, ma tra i sindacati, quelli degli stipendi a 5-0 e i lavoratori, la frattura sembra davvero insanabile.